Un'occasione unica e da non perdere. Confindustria, protagonista del tavolo tecnico per le universiadi, ha ben chiaro il valore dell'evento e Andrea Giorgio, vicepresidente tra gli imprenditori più in vista di questa provincia, sa bene che l'appuntamento è di quelli da non fallire. Vogliamo portare il nostro modello di condivisione di idee perché è una cosa che chiaramente riguarda l'intera provincia e quindi in qualche modo della regione per la verità e quindi in qualche modo è da fare squadra per cercare di portare avanti delle iniziative che siano le più utili possibili per la promozione del territorio. Per le iniziative che si stanno immaginando di portare avanti abbiamo chiesto di realizzare un logo, un condivisione dei partecipanti al tavolo. Noi abbiamo già messo a disposizione la nostra piattaforma di comunicazione il 16 alle 10.30 con il liceo sportivo, organizziamo un evento insieme ad Aru qui in Confindustria nella sala nostra dove ospiteremo gli alunni dell'istituto e durante il quale si farà una condivisione anche con loro per spiegare l'importanza del... Reperire fondi e o mettere a disposizione forze e competenze tra gli impegni degli industriali che hanno già fatto partire la macchina organizzativa in modo deciso e concreto. E' una delle attività che stiamo provando a portare avanti insieme agli altri attori del tavolo ma a prescindere da questo comunque ognuno per quello che poi in qualche modo è la propria organizzazione, la propria disponibilità sta già mettendo a disposizione delle iniziative. L'idea nostra come Confindustria è quella di in qualche modo accompagnare i giornalisti esteri così in un tour mirato puntando una serie di eccellenze che stiamo individuando in maniera tale che loro nel rientro nei loro paesi di origine possano poi spiegare ai loro territori, insomma le eccellenze, le esperienze di vita rurale che si possono realizzare in provincia di Avellino. L'ambizione è quella che a settembre dieci canadesi vengano in provincia di Avellino perché in qualche modo è stato correttamente comunicato il territorio.